Quando leggete le storie dei personaggi pubblici, pensate davvero che si riferiscono a loro? Per esempio, quando leggete la storia di Giuseppe, si parla di lui o di Gesù? No, quando leggete le storie di Noè, di Abramo, di Enoch o di Malkisidec, in realtà si parla di Gesù. Da più di 40 anni, Amazing Facts si dedica alla condivisione della parola di Dio tramite i mass media. Questo programma contiene estratti dai migliori programmi televisivi. Mettetevi comodi e godetevi questa edizione di Amazing Facts Presents. Oggi inizierò una serie di studi che, a dire la verità, non so quanto tempo mi prenderanno. Di certo non riuscirò a esaurire l'argomento con la meditazione di oggi. Tratteremo della presenza di Gesù attraverso tutta la Bibbia. Quando leggiamo la storia dei personaggi biblici, ci si rende conto, in maniera chiara e incontestabile, che le loro vite sono ombra e prefigurazione di Cristo. A questo proposito, se andiamo, per esempio, in Giovanni, nel Vangelo, capitolo 1, versetto 45, Vediamo che, dopo che Filippo ebbe incontrato Gesù, Andò e trovò Natanaele, e gli disse, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, il figlio di Giuseppe. In altre parole, qui, Filippo sta dicendo che Gesù è presente in tutta la Bibbia. Certo, non si legge esplicitamente il nome di Gesù nell'Antico Testamento, ma si trovano tipi e prefigurazioni di Cristo a partire dagli scritti di Mosè fino a Malachia, l'ultimo libro. Nelle nostre Bibbie sono presenti molte prefigurazioni, e Dio vuole che noi riconosciamo queste analogie perché esse possono rafforzare la nostra fede. Esamineremo velocemente molti di questi personaggi biblici e le loro vicende, ma prima di tutto voglio che capiate che la Bibbia è molto più di un libro storico, è un libro sovrannaturale. L'unica spiegazione che giustifichi la presenza di tali tipologie e prefigurazioni è che qualcuno in controllo della storia fosse anche responsabile della stesura della Bibbia. Bene, chi è il primo uomo della Bibbia? Adamo. Nel Nuovo Testamento leggiamo che Gesù è il secondo Adamo, quindi se Gesù è rappresentato in Adamo, allora Adamo è un tipo di Cristo. Romani 5,14 Ma la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo che è figura... Ecco un esempio di tipologia biblica, non sono io che l'ho inventata. Gli autori stessi della Bibbia sono andati alla ricerca di questi tipi e simboli. Adamo che è figura di colui che doveva venire. Nel Nuovo Testamento dunque vediamo che Paolo dice Adamo è figura di colui che doveva venire, del secondo Adamo, Gesù. In che modo Adamo è la figura di Cristo? Adamo si addormentò il venerdì e Dio lo mise a riposo, respirò e poi smise di respirare. Adamo fece il primo respiro il venerdì. Gesù fece l'ultimo respiro il venerdì. Adamo si addormentò, Dio gli aprì il fianco e creò sua moglie. Non è esattamente il modo in cui oggi molti di noi si sposano. Gesù fu messo a riposo il venerdì. Una lancia gli trafisse il fianco e attraverso quel sangue misto ad acqua che fuoriuscì è nata la sua sposa, la sua chiesa. Adamo peccò in un giardino. Gesù riportò la vittoria nel deserto. Vedete qual è la logica? Vediamo tutti questi simboli e queste figure che ci dicono che Gesù è il secondo Adamo. Ed è vero che il primo Adamo è caduto e tutti sentiamo la presenza in noi della sua natura peccaminosa. Ma possiamo anche, mediante la fede, ricevere il DNA del secondo Adamo, Gesù, e vincere la lotta contro il peccato. Com'è vero che stiamo combattendo una battaglia contro il peccato a motivo della caduta del primo Adamo, è altresì vero che possiamo vincere il peccato a motivo della vittoria del secondo Adamo. La vittoria può essere nostra perché siamo stati adottati dalla sua famiglia. Possiamo provare questa vittoria, è un'esperienza concreta, perciò possiamo dire che i simboli hanno anche una valenza redentrice, ci insegnano qualcosa di molto pratico. Ma andiamo avanti. Caino e Abele. Abele è il primo individuo che muore nella Bibbia. È un buon pastore, così come Gesù è il nostro buon pastore. La prima volta che viene menzionata la parola sangue nella Bibbia si riferisce al sangue di Abele che parla a Dio. Il sangue di Abele che grida a Dio dalla terra. Abele offre un sacrificio e poi muore. Non c'è scritto che egli oppose resistenza a suo fratello. Leggiamo in Ebrei 12,24 Gesù il mediatore del nuovo patto e il sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue di Abele. E come il sangue di Abele parlò al Padre, così anche il sangue di Gesù parla al Padre. E quando in preghiera invochiamo il suo sangue veniamo perdonati. Sapete, Dio ha mostrato misericordia anche nei confronti di Caino, non è vero? Caino disse il mio peccato è troppo grande da sopportare e chiunque mi trova potrebbe uccidermi. Ma Dio abbia pietà di lui e disse porrò un segno su di te così che chiunque ti trovi non ti uccida. Ebbene, anche noi riceviamo misericordia a motivo del sangue di Gesù, il nostro buon pastore. Permettetemi di leggere alcune righe del libro Did I May Know Him? che io possa conoscerlo, alla pagina 208. L'Antico Testamento è ombra e prefigurazione del Vangelo e il Nuovo Testamento ne manifesta tutta la sua potenza. Il Nuovo Testamento non introduce una nuova religione, così come l'Antico Testamento non ne presenta una che deve essere sostituita. Il Nuovo Testamento è solo l'adempimento e la manifestazione dell'Antico. Quanti di voi hanno mai sentito qualcuno dire sono un cristiano del Nuovo Testamento? Come se ci fossero cristiani dell'Antico Testamento. Essere cristiani dell'Antico Testamento vuol dire esattamente essere cristiani del Nuovo Testamento. Chi pensa che siano due cose diverse si sbaglia. Chi pensa che nell'Antico Testamento Dio salvi l'uomo in un modo e nel Nuovo lo salvi in un modo diverso si sbaglia. Saremo tutti salvati per grazia e per la fede. Amen? Gli agnelli e le capre sacrificati nell'Antico Testamento erano ombre e prefigurazioni che preannunciavano il sacrificio di Gesù. Gli uomini dell'Antico Testamento saranno salvati per la fede che avevano avuto nel credere in eventi futuri. Noi saremo salvati per la fede che avremo avuto nel guardare al passato, alla croce. Tutti saremmo salvati per la medesima croce. Passiamo ora alla storia di Abramo. Gesù è come Abramo. E aggiungerei come Isacco. Abramo lasciò un paese lontano per raggiungere la terra promessa e portò con sé la sua famiglia. Gesù ha lasciato il cielo e venne su questa terra per portare la sua famiglia nella terra promessa. Tutti saranno salvati in virtù del seme benedetto di Abramo, cioè Isacco. Chi si ricorda il significato del nome di Isacco? Risata. A quanti di voi piace sorridere e ridere? Il sorriso è segno di buone notizie e il Vangelo è una buona notizia. Perciò Isacco è figura del Cristo che ci recherà gioia. Ad Abramo viene dato questo figlio che è frutto di un miracolo e un bel giorno il Signore gli parla e gli dice che cosa avrebbe dovuto fare con questo figlio promesso mediante il quale tutto il mondo sarebbe stato salvato. Prima ancora che possa sposarsi Isacco dovrà essere sacrificato. Ma non ha alcun senso. La promessa della salvezza avrebbe dovuto realizzarsi tramite lui e tu vuoi ucciderlo? Anche Gesù viene offerto in sacrificio proprio nel fiore degli anni. Allora Dio dice ad Abramo voglio che tu vada a rendere questo sacrificio. Padre e figlio partono e il viaggio dura tre giorni. Lasciano l'asino con i servitori dicendo che sarebbero tornati. Proseguono ancora per una mezza giornata fino a raggiungere la cima della montagna. Il percorso dunque dura tre giorni e mezzo. Allo stesso modo il tempo che passa fra il battesimo di Cristo quando inizia il suo ministero e il giorno del suo sacrificio è di tre anni e mezzo. Nelle profezie un giorno corrisponde a un anno. Isacco porta in spalla la legna. Mi avrete sentito parlare di questa analogia molte volte. Gesù porta in spalla la croce. Nel tragitto verso la vetta Isacco dice a suo padre e questa è una delle affermazioni più inossidabili della Bibbia padre abbiamo il fuoco. Probabilmente avevano una sorta di torcia per accendere il fuoco. Abbiamo la legna. E' possibile che Abramo si fosse recato a rendere sacrifici con suo padre altre volte ma ci manca qualcosa di veramente importante. Dov'è l'agnello? E tutta la storia ruota poi intorno alla risposta che Abramo dà al figlio. Abramo rispose Figlio mio, Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto. Da notare la costruzione della frase. Anche nell'originale ebraico dice Dio si provvederà un agnello. Ed è esattamente ciò che ha fatto Gesù. Dio figlio si è provveduto un agnello. Poi arriviamo in cima alla montagna. Gesù si sacrificò volontariamente o il padre ha dovuto costringerlo? No, disse Si è fatta la tua volontà, non la mia. Isacco quando apprende dal padre qual è il piano si arrende e dice padre se questo è quello che Dio ti ha detto di fare. Abramo era anziano all'epoca aveva più di cento anni. Isacco era un giovane vigoroso avrebbe potuto stenderlo al tappeto avrebbe potuto scappare Abramo non avrebbe mai potuto raggiungerlo. Invece no si sottomise alla volontà del padre aveva un tale rispetto per il comandamento che dice è onora a tuo padre e tua madre che anche quando il padre gli disse stendi il braccio figliolo perché ti devo legare e sacrificare il figlio ubbidì si sacrificò volontariamente come anche Cristo si sacrificò volontariamente. Era il figlio tanto amato ma Dio disse ad Abramo prendi tuo figlio è il tuo unico figlio colui che ami Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigianito figliolo e proprio quando è sul punto di affondare il coltello l'angelo lo ferma e gli indica un montone un sostituto con le corne impigliate in un cespuglio qui abbiamo l'immagine di un montone con una corona di spine un'altra prefigurazione di Cristo nella storia di Abramo dunque e in altre innumerevoli analogie possiamo scorgere la prefigurazione di Cristo Giacobbe potremmo parlare a lungo di Giacobbe ma prendiamo in considerazione solo alcuni aspetti prima di tutto ha dodici figli che daranno origine alle tribù di Israele analogamente Gesù ha dodici apostoli il cui ministero darà origine alla chiesa Giacobbe rivendica il diritto di primo genitura non trovate interessante che Giacobbe si presenti al padre e ottenga la benedizione grazie al fatto di aver messo la pelle di capretti sacrificati sulle mani e sul collo indossa le vesti di suo fratello e in poche parole ottiene il diritto di primo genitura grazie alla pelle del capretto che rappresenta un sacrificio e le vesti di suo fratello Esau riceve la benedizione del padre che è cieco e che pur non vedendolo gliela concede sulla base del suo odore e di ciò che sente al tatto e dice per questo motivo ti benedirò allo stesso modo anche noi riceviamo la giustizia di Cristo è come se il padre chiudesse un occhio fosse come cieco al nostro peccato a motivo delle vesti che indossiamo dice la voce è quella di Giacobbe ma la pelle è di Esau e lo benedice noi tutti in presenza del padre ci rivestiamo della veste di Gesù e della pelle di Gesù e del suo sacrificio e in questo modo veniamo benedetti ci sono immagini e prefigurazioni straordinarie nella storia di Giacobbe Giacobbe ha anche un sogno un giorno scappa da casa perché ha ingannato suo fratello e oh potrei parlare ore e ore di Giacobbe Giacobbe ha un sogno dicevo e cosa vede in questo sogno è coricato e per cuscino non ha nient'altro che una pietra mi chiedo forse c'è qualcuno tra di voi che ha un cuscino e in sogno vede una scala che collega la terra al cielo noi siamo separati dal cielo ma c'è una scala e su di essa ci sono angeli che scendono e che salgono come la gente sulle scali mobili dei centri commerciali ma la scala del sogno è altissima scompare in lontananza su nel cielo e raggiunge la gloria di Dio il mezzo mediante il quale Dio provvede alle nostre necessità è questa scala e che significato ha la scala nel nuovo testamento Gesù ci dice che dobbiamo interpretarla come un simbolo di se stesso Giovanni 1 51 poi gli disse a Natanaele in verità in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo gli ebrei non conoscevano forse la storia di Giacobbe e quando Gesù disse salire e scendere sul figlio dell'uomo voleva dire che Gesù è proprio quella scala di fatto la croce è la scala è il ponte che collega il cielo e la terra mediante Cristo è per mezzo della croce che noi abbiamo accesso al cielo è per mezzo della croce che gli angeli vanno e vengono e rispondono alle nostre preghiere perché preghiamo nel nome di Gesù lui è la scala Giacobbe pensava di essere separato da Dio perché aveva ingannato suo fratello era scappato da casa e si sentiva completamente solo ma per mezzo di quel sogno Dio gli dice non ti ho dimenticato sarò sempre al tuo fianco e ti darò una visione vedrai una scala con gli angeli che salgono e scendono e si prendono cura di te e che ti proteggono non la vedrai mai più ma non ti scordare che quella scala è sempre lì e quella scala è lì anche per voi ovunque vi troviate se avete trascurato un impegno con il Signore avete implorato il suo perdono lui vi benedirà sapete cosa ha detto Dio a Giacobbe e gli disse ti riporterò nella terra promessa la stessa notte in cui ebbe quel sogno Dio gli fece questa promessa allo stesso modo Dio dice a ognuno di noi ti porterò nella terra promessa non lo dimenticare e quando preghiamo nel nome di Cristo ringraziamo il Signore perché Lui è la scala che collega il cielo e la terra perché risponde alle nostre preghiere e ci protegge il fatto stesso che siete qui ora dimostra che Dio vi ha protetti ha protetto la vostra vita nel libro della Genesi leggiamo le storie di Adamo di Enoch di Giacobbe di Abramo ma quando si arriva al capitolo 37 ci si rende conto che il resto del libro è dedicato a Giuseppe troviamo più notizie riguardo a Giuseppe nel libro della Genesi di quante ne abbiamo su Abramo o Giacobbe Giuseppe è una delle migliori prefigurazioni di Cristo di tutta la Bibbia se consideriamo la vita e l'esperienza di Giuseppe la mettiamo a confronto con ciò che conosciamo della vita e dell'esperienza di Gesù scorgiamo centinaia di analogie che dovrebbero farci riflettere con timore reverenziale su come Dio abbia il controllo degli eventi per esempio Giuseppe e Gesù erano entrambi primogeniti Giuseppe il primogenito di Rachele Gesù il primogenito di Maria sono entrambi nati grazie a un miracolo Giuseppe era secondo solo al re dell'Egitto Gesù è secondo solo al re dell'universo Dio il padre il padre di Giuseppe lo amava più degli altri figli Gesù è chiamato figlio prediletto inoltre Giacobbe era anziano quando nacque Giuseppe sia Giuseppe che Gesù vengono descritti come uomini retti che ricevono rivelazioni di Dio riguardo alla gloria futura la Bibbia non dice che Giuseppe abbia mai commesso peccato analogamente anche la vita di Gesù è irreprensibile i fratelli di Giuseppe cospirarono contro di lui a motivo della loro invidia leggiamo che prima che li raggiungesse essi complottarono per ucciderlo dissero ecco che arriva il sognatore ora dunque venite uccidiamolo e gettiamolo in un pozzo diremo poi che una bestia feroce lo ha divorato le stesse cose sono state dette di Gesù gli uomini cospirarono contro di lui e complottarono di ucciderlo i capi religiosi vogliono disfarsi di Gesù allora i capi dei sacerdoti gli iscrivi e gli anziani del popolo si riunirono nella corte del sumo sacerdote di nome Kayafa e tennero consiglio per prendere Gesù con inganno e farlo morire nel nuovo testamento troviamo le stesse parole che leggiamo nell'antico testamento Giuseppe fu venduto agli egiziani dietro consiglio di suo fratello Giuda Gesù è stato venduto ai romani per mano di Giuda entrambi furono ceduti ai gentili da due uomini che portavano lo stesso nome in prigione Giuseppe chiese al coppiere di non dimenticarsi di lui e quando il suo compagno viene liberato e reintegrato gli dice ma ricordati di me quando le cose andranno bene per te è interessante notare come anche Cristo consumò l'ultima cena con i suoi discepoli e disse loro fate questo in memoria di me anche sulla croce beh pensateci per un secondo Cristo si trovò fra due uomini condannati uno dice signore ricordati di me e ottiene la vita eterna mentre l'altro no uno viene salvato l'altro no Giuseppe si ritrova in prigione con altri due uomini di cui interpreta i sogni uno viene reintegrato viene salvato mentre l'altro viene messo a morte muore è interessante il fatto che il ladrone che viene salvato dice signore ricordati di me sia Giuseppe che Gesù vengono perseguitati a motivo di false testimonianze la moglie di Potifar riferisce parole menzognere nei confronti di Giuseppe al personale domestico e a suo marito i falsi testimoni accusano Gesù al cospetto del Sinedrio e in presenza di Pilato Giuseppe andò in prigione a causa di false accuse così come Gesù andò alla tomba a causa di false accuse lo sapevate che nella Bibbia le parole prigione e tomba sono spesso intercambiabili sia Giuseppe che Gesù furono rigettati dai propri fratelli perché bramavano la loro parte di eredità ma Dio li elevò al punto di giudicare i propri fratelli sapete perché Giacobbe regalò a Giuseppe una veste variopinta in poche parole disse Ruben tu per me non sarai mai il primo genito e se conoscete la storia saprete che Ruben è andato a letto con la sua matrigna Giacobbe gli disse ti sei screditato poi regala questa veste multicolore a Giuseppe era un simbolo di regalità e immediatamente i fratelli capiscono Rachele è la moglie prediletta di nostro padre per lui Giuseppe è il primo genito e lascerà l'eredità a questo sbarbatello erano invidiosi per l'eredità che Giacobbe avrebbe dato a Giuseppe sia Giuseppe sia Gesù erano odiati a motivo della loro grandezza i fratelli di Giuseppe erano risentiti per i sogni che lui aveva ricevuto i nemici di Cristo erano risentiti per i sogni che lui aveva avuto dissero ecco che arriva il sognatore uccidiamolo Cristo fu anche profeta e il suo popolo volle ucciderlo ma alla fine a Giuseppe come a Gesù fu data grande autorità e riuscirono a conquistare la fiducia di coloro che avevano intorno dicevano qualunque cosa vi dica di fare fatela cosa disse poti fare domestici metto tutto nelle mani di Giuseppe fate tutto ciò che vi dice cosa disse Maria al banchetto di nozze fate tutto ciò che vi dice perciò nonostante alcuni opponessero resistenza altri riconobbero che erano persone benedette ed ebbero fiducia in loro quando Maria disse ai discepoli che Gesù era risorto essi non le credettero pensavano che fosse troppo bello per essere vero volevano delle prove quando i fratelli di Giuseppe tornarono dall'Egitto dissero a Giacobbe tuo figlio è ancora vivo dopo 22-23 anni forse 21 non possiamo esserne certi dall'ultima volta che aveva visto Giuseppe non volle crederci ebbe un tonfo al cuore era troppo bello per essere vero ma quando poi ne ebbe la prova disse ci credo poi disse ora posso morire in pace perché so che mio figlio è vivo riguardo al Cristo quando Simeone vide il bambino Gesù in fascia disse ora posso morire perché ho visto la tua salvezza anche qui è una persona anziana che parla un altro aspetto in comune è che come Cristo fu separato dal padre quando era su questa terra così anche Giuseppe fu separato dal suo padre ci fu una grande festa in cielo quando Gesù risuscitò ci fu gran festa quando Giuseppe e Giacobbe si incontrarono nuovamente non so voi ma ogni volta che leggo questa storia nella Bibbia arrivo al punto in cui Giuseppe e Giacobbe si rivedono dopo tanto tempo mi immagino Giuseppe scendere dal suo carro dorato e Giacobbe che è quasi caldo dal proprio mulo e due che corrono l'uno verso l'altro il vecchio patriarca zoppicante a causa del problema che aveva all'anca per la lotta che aveva fatto con l'angelo e Giuseppe nel fiore degli anni li vedo abbracciarsi e piangere dalla gioia e questa scena mi commuove ogni volta che leggo la loro storia non capita anche a voi il padre che credeva che il figlio fosse morto e che all'improvviso scopre che invece è vivo cosa pensate che provasse il padre quando Gesù era sulla croce quanto pensate che abbiano gioito le creature celesti quando Gesù ascese al padre ecco perché disse non trattenetemi perché non sono ancora salito al padre mio devo vedere mio padre perché sente la mia mancanza sono stato su questa terra 33 anni e mezzo sia Gesù sia Giuseppe sono rimasti separati per decenni dai rispettivi padri ma alla fine hanno entrambi celebrato un festoso ricongiungimento potete esserne certi in Egitto ci sono stati sette anni di carestia ma anche i sette anni di abbondanza e sette anni di abbondanza sono trascorsi dall'inizio del ministero di Gesù fino alla fine del tempo di prova per la nazione giudaica con la lapidazione di Stefano sette anni in cui la parola di Dio è stata predicata ripetutamente ai giudei cos'altro posso aggiungere mi mancherebbe il tempo come dice la Bibbia se volessi andare avanti con tutte queste analogie vorrei concludere con questo versetto ebrei 12 1 2 vi ho presentato solo alcuni esempi di come possiamo intravedere la figura di Gesù attraverso tutta la Bibbia e qui leggiamo ebrei 12 1 2 essendo circondati da un così gran numero di testimoni in tutte queste storie troviamo schiere di testimoni deposto ogni peso cosa ci dice di fare Dio quando scopriamo tutte quelle cose su Gesù nella Bibbia deposto ogni peso a proposito in inglese la storia history si può comprendere come his story la sua storia Gesù è sempre presente nella storia questa è la nostra risposta e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti tenendo gli occhi su Gesù autore e compitore della nostra fede il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio teniamo lo sguardo fisso su Gesù quando leggete le storie dei personaggi biblici pensate davvero che si riferiscono a loro prendiamo Giuseppe per esempio piuttosto si parla di Gesù no in realtà non si parla di Noè non si parla di Abramo di Enoch o di Melchizedek ma in tutti questi eroi della Bibbia possiamo scorgere la figura di Gesù e sapete una cosa contemplando siamo trasformati spero che leggiate la Bibbia perché più la leggete a proposito alcuni dicono leggo solo il Nuovo Testamento perché voglio studiare la storia di Gesù beh vi posso dire che personalmente intravedo la figura di Gesù anche quando leggo l'Antico Testamento sarete trasformati da ciò che contemplerete ecco perché ritengo che dobbiamo studiare meglio la figura di Gesù e questo libro ci parla solo di Lui grazie a tutti